Un saluto e benvenuti a tutti voi a questa nostra edizione del Tg Ionio. Vediamo le principali notizie. Incidente mortale a Reggio Calabria. Alla mezza confiscati beni per oltre 8 milioni e mezzo a Giuliano Garuso. E beni per oltre 75 mila euro sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Reggio Calabria ad Adriana Musella. Sorpresi dalle telecamere ad abbandonare rifiuti, è successo a Serra San Bruno e il sindaco annuncia sanzioni. Sul caso Lucia a Montefaone il codice di procedura penale dice nessun obbligo di dimissioni. Il confronto politico a Chiara Valle sui nostri schermi sta producendo ottimi ascolti a tra poco. Ed eccoci qua nello studio. Iniziamo il telegiornale con questa notizia. Incidente mortale a Reggio Calabria. Incidente mortale nei pressi del centro di Reggio Calabria. Un ragazzo di 24 anni al volante di un'utilitaria ha travolto e ucciso un pedone sulla bretella di raccordo con la circonvallazione autostradale nei pressi di Piazza Carmine. Secondo le prime ricostruzioni la vittima sarebbe un'anziana donna investita in pieno dall'auto che secondo alcuni testimoni procedeva a forte velocità. Dopo l'impatto il 24enne avrebbe perso il controllo dell'auto che sarebbe andata a cozzare contro le ringhiere sull'argine del torrente Calopinace. Sul posto sono immediatamente intervenuti gli uomini del 118 ma per la vittima non c'era già più nulla da fare. Insieme a loro sono arrivati gli agenti della Polizia Municipale e delle volanti che hanno proceduto con i rilievi. Alla mezza terme confiscati beni per oltre 8 milioni e mezzo a Giuliano Caruso. Sentiamo. Confiscati beni mobili e immobili riconducibili all'imprenditore Lamettino Giuliano Caruso accumulati nel tempo, fra l'altro, soprattutto con i proventi derivanti da prestiti con tassi usurari che si attestavano anche su oltre il 90% annuo. Il provvedimento è stato eseguito dal gruppo della Guardia di Finanza di La Mezza Terme guidato dal comandante tenente colonnello Fabio Bianco. La confisca dei beni è stata disposta dal Tribunale di Catanzaro, sezione seconda penale, Presidente Giuseppe Valea, su conforme richiesta della Procura della Repubblica di La Mezza, Procuratore della Repubblica Salvatore Curcio e sostituto procuratore dottoressa Marta Agostini, sulla base delle informative del gruppo della Guardia di Finanza di La Mezza Terme. Le indagini sono state eseguite dal nucleo mobile del gruppo GDF Lamettino. La confisca del patrimonio dell'imprenditore rappresenta l'esito delle indagini di polizia economico-finanziaria, istituzionalmente svolte dalle fiamme gialle, volte all'individuazione e all'aggressione dei patrimoni conseguiti da chiunque si arrisca a mezzo di attività illecite di qualsivoglia natura. I mirati accertamenti patrimoniali e reddituali dei finanzieri condivisi dalla magistratura sono riusciti a dimostrare che i beni confiscati hanno un valore economico del tutto sproporzionato ed ingiustificato rispetto ai redditi illeciti dichiarati nel tempo, tenuto pure conto dell'elevato tenore di vita mantenuto dall'imprenditore, pazientemente dimostrato dai militari. Ciò ha consentito alla Guardia di Finanza di La Mezza di delineare un solido quadro indiziario, indispensabile per disporre la confisca dei patrimoni rivelatisi di origine illecita o ingiustificati nel loro possesso, il cui valore si attesta inoltre 8 milioni e 500 mila euro. La misura ablatoria ha riguardato due ville ubicate in un residente turistico della riviera Tirrenica, un fabbricato adibito ad uffici ed un magazzino ad uso commerciale ubicati nel centro cittadino, una lussuosa villa collocata nella zona montana di La Mezza, con annessa piazzola di atterraggio per elicotteri, una grande struttura adibita ad hotel e ristorante ubicata nell'Interland Lametino, una grande struttura adibita ad attività commerciali ubicati nella periferia lametina, 15 appezzamenti di terreni agricoli ed edificabili, una ditta individuale operante nel settore dell'edilizia, quote societarie ed intero compiendio aziendale di due società operanti rispettivamente nel settore della ristorazione e della compravendita di immobili, quote societarie ed intero compendio aziendale di due SRL operanti nel settore edile, quote societarie ed intero compendio aziendale di una società di persone operante nel settore del commercio di preziosi ed immobiliare, quote societarie di una SRL operante nella ristorazione e caffetterie, quote societarie di una SRL operante nel settore delle scommesse, alcuni dei beni sottoposti a sequestro sono risultati intestati anche a dei prestanome. E a Reggio Calabria beni per 75 mila euro sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza. Sono stati sequestrati beni per 75 mila euro dalla Guardia di Finanza di Reggio Calabria ad Adriana Musella, presidente del coordinamento nazionale antimafia riferimenti, indagata per i reati di malversazione ai danni di enti pubblici e di appropriazione in debita ai danni della stessa associazione. Il provvedimento di sequestro preventivo è stato emesso dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria. Secondo quanto emerso dalle indagini nel corso degli anni, a partire dal 2002, in qualità di presidente di riferimenti, Musella ha ricevuto e gestito diversi finanziamenti, anche pubblici, per un importo complessivo di circa 450 mila euro, il cui impiego sarebbe dovuto essere vincolato alla divulgazione della cultura antimafia. Gli accertamenti condotti dai finanzieri hanno invece evidenziato che parte di quei fondi ottenuti nel corso del quinquennio 2010-2015, quantificabili in circa 55 mila euro, sono stati utilizzati per finalità ritenute estranee a quelle associative. Inoltre, l'esame approfondito dei conti bancari dell'associazione ha evidenziato come parte dei fondi disponibili, circa 20 mila euro, siano stati utilizzati dalla Musella come uno strumento di liquidità personale, cui la stessa faceva ricorso. I finanziamenti destinati all'associazione provenivano dal Consiglio regionale della Calabria, Provincia di Reggio Calabria, Comune di Reggio Calabria, Provincia di Vibbo Valencia, Comune di Verona, Comune di Santa Maria Capo Avetere, Provincia di Salerno, Provincia di Verona, MIUR, Consiglio Ordine degli Ingegneri di Salerno, Camera di Commercio di Reggio Calabria, Comune di Bollate, Comune di Gioia Tauro. A Vibbo Valencia aveva rubato alcune arnie in un'azienda agricola, ma è stato subito denunciato un giovane del Vibbonese. Nel corso della notte fra il 18 e il 19 settembre, i carabinieri della stazione di Soriano Calabro venivano allertati dall'azienda agricola Maurizio Danilo Pantera per il furto di otto arnie per api. Immediatamente i carabinieri di Soriano, unitamente ai carabinieri della stazione di Polia, tutti coordinati dalla tenente Marco Di Caprio, comandante la compagnia di Serra San Bruno, iniziavano le indagini per il recupero del maltolto, che grazie anche al sistema GPS satellitare installato sull'alveare, veniva individuato in un terreno sito nel comune di Polia. I carabinieri quindi si dirigevano verso il luogo dove era stata occultata la reflutiva, che veniva prontamente recuperata e riconsegnata al legittimo proprietario. All'esito delle indagini è stato individuato anche il proprietario del fondo agricolo, un cittadino 34enne incensurato, che veniva deferito all'autorità giudiziaria competente. Sorpresi dalle telecamere ad abbandonare rifiuti, è successo a Serra San Bruno e il sindaco annuncia sanzioni. Pugno duro dell'amministrazione comunale nei confronti di coloro i quali, come evidenziato dal sindaco Luigi Tassone, disprezzano la comunità. Lo stesso primo cittadino ha infatti pubblicato su Facebook il video e i fotogrammi di alcuni automobilisti, che evidentemente ignari della presenza delle telecamere di videosorveglianza, sono stati sorpresi ad abbandonare rifiuti nello spazio antistante l'ingresso del sito dove si procede al trattamento della raccolta differenziata, situato nell'area dello stadio comunale La Quercia. L'impegno della nostra amministrazione e il senso civico dimostrato dai cittadini serresi sul sistema della raccolta differenziata, ha affermato il sindaco di Serra, ci ha permesso di recuperare il ritardo accumulato negli anni precedenti e di raggiungere risultati importanti. Una gestione dei rifiuti seria richiede anche un sistema efficiente e puntuale nel controllo e nell'applicazione di sanzioni a chi disprezza la nostra comunità. Questo sistema funziona ed è attivo perché gli incivili a Serra San Bruno non sono i benvenuti. E a Montepaone sul caso Lucia, il codice di procedura penale dice nessun obbligo di dimissioni. Sentiamo. Secondo quanto indicato dall'articolo 289 del codice di procedura penale, richiamato per stabilire la misura interdittiva a carico dell'assessore Francesco Lucia, il provvedimento non si estende agli uffici ricoperti per diretta investitura popolare. Sarà quindi una scelta discrezionale della maggioranza quella che deciderà il futuro da consigliere e assessore di Francesco Lucia. Ma cosa accadrebbe nell'eventuale decisione di un suo allontanamento? Gli scenari sono differenti e sarebbero non privi di conseguenze per gli equilibri della maggioranza di Montepaone. Qualora infatti dovessero essere chieste ed eventualmente accettate le dimissioni da consigliere di Lucia, si procederebbe alla surroga che porterebbe all'entrata in consiglio comunale del primo dei non eletti, Antonio Lombardo, ex segretario cittadino dell'Udc, i cui rapporti con la maggioranza sembrano però essersi raffreddati già all'indomani dello svolgimento delle elezioni amministrative. Qualora invece si dovesse procedere ad un rimpasso di giunta, il consigliere, che sembra essere accreditato a raccogliere le deleghe dell'attuale assessore, è Gianni Voci, il grande assente di questa prima parte di legislatura targata migliarese. In entrambi i casi sarebbero stravolti gli equilibri di maggioranza in una situazione che potrebbe portare il sindaco migliarese a non spostare le sue pedine, attendendo gli sviluppi della vicenda giudiziaria da una posizione garantista nei confronti del suo assessore. Ed ora una buona notizia. Chiaravalle Centrale. Da ottobre Palazzo Stagliano sarà accessibile anche ai disabili. Sentiamo. Tra la fine di settembre e i primi giorni di ottobre, i piani superiori dello storico Palazzo Stagliano saranno finalmente resi accessibili anche ai disabili. Merito della generosa donazione di un noto imprenditore privato locale, Luciano Principe, che si è fatto carico dell'intero investimento pari a circa 15.000 euro. Tale somma coprirà l'acquisto e l'installazione di un montascale che renderà fruibili sia la sala convegni che la biblioteca comunale. Infatti, l'intervento di abbattimento delle barriere architettoniche include l'apertura di una porta al primo piano che metterà in comunicazione tutte le stanze. Il progetto era stato formalmente sollecitato nei mesi scorsi dalla sezione provinciale della UILD, Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare, e dalla Consulta Comunale della Cultura. Il sindaco Domenico Donato aveva accolto l'idea, ma non potendo disporre delle necessarie risorse economiche, era stato costretto a rinviare il tutto a data da destinarsi. È risultata pertanto provvidenziale e risolutiva l'iniziativa assunta da Luciano Principe, che lavorando a stretto contatto e in piena sintonia con il consigliere comunale delegato Bruno Santoro e gli assessorati competenti, ha reso possibile la realizzazione di un importante obiettivo di crescita sociale e civile per la comunità chiaravallese. Forte e univoco il plauso della cittadinanza tutta nei confronti del generoso filantropo. Credo che tutti, in questo particolare momento storico, ognuno nell'ambito delle proprie possibilità e competenze, dovremmo impegnarci per fare qualcosa per il nostro territorio, ha dichiarato Luciano Principe. Io l'ho fatto in un rapporto di chiarezza e di rispetto nei confronti delle istituzioni. Lo avrei fatto ugualmente con qualunque sindaco e con qualunque amministrazione, perché credo che gli schieramenti e le divisioni finiscano con la campagna elettorale e vadano superati lì dove c'è da intervenire per la soluzione di problemi concreti. E restiamo a Chiaravalle, confronto politico a distanza, sui nostri schermi di Teleionio. Continua, sui nostri schermi, il bot disposto a distanza tra la maggioranza e l'opposizione consigliare di Chiaravalle Centrale. Ieri il forum con l'assessore al bilancio e dai lavori pubblici Claudio Foti, che ha pesantemente attaccato l'ex sindaco Gregorio Tino sui temi del dissesto e della gestione politico-amministrativa. Quest'ultimo, come si ricorderà, era stato ospite nei nostri studi nel corso di una seguitissima diretta televisiva. Foti ha quindi inteso replicare a quella trasmissione, portando con sé anche numeri e tabelle riepilogative su argomenti di vario genere, gestione rifiuti, servizio scuola, bus, ecc. Pochi gli accenni alla Casa della Salute, in quanto è stata preannunciata una ulteriore trasmissione con la presenza del sindaco, Mimmo Donato, che fornirà tutte le informazioni utili sull'andamento dell'iter progettuale, arenato da mesi nel pantano della burocrazia regionale e dell'ASP. Ottimi ascolti anche ieri, dunque, per il forum con Claudio Foti, un intervento, quello dell'assessore, che sicuramente lascerà il segno, visti, tra l'altro, i durissimi giudizi espressi nei confronti di alcuni settori della pubblica amministrazione. Dipendenti comunali, dunque, ancora una volta sotto accusa a Chiaravalle. Sono sempre più numerose le adesioni al Comitato Pro Catanzaro. Vediamo il servizio. Sempre più numerose le adesioni al Comitato Pro Catanzaro, che chiede la secessione dei comuni delle serre dalla provincia di Vibo Valencia. Ai nostri microfoni il consigliere comunale di Serra San Bruno, Alfredo Barillari. Sì, sono tutti i comuni delle serre, i sette comuni che fanno parte della dorsale delle serre vibonesi al momento, ma speriamo di ritornare a Catanzaro per una questione di identità, innanzitutto, perché noi ci siamo sempre sentiti legati al territorio catanzarese e al tempo stesso abbiamo sempre usufruito dei servizi del territorio catanzarese stesso, anche perché a Catanzaro le strade ci sono e qui a Vibo, purtroppo, no. Questo è un problema ormai sentito da anni e anni dalla popolazione locale e quello che è stato l'appello lanciato dal presidente Niglia della provincia di Vibo Valencia o anche il monito che avrebbe chiuso anche 450 km di strade più i problemi dell'edilizia scolastica ci hanno spinto alla fine a canalizzare quello che è un sentimento popolare della cittadinanza in una battaglia che proveremo a tutti i costi di vincere con una proposta di iniziativa popolare raccogliendo le firme e portandole nei vari consigli comunali dove poi le amministrazioni dovranno prendere le proprie responsabilità politiche nei confronti delle cittadinanze. C'è stato un dibattito molto partecipato negli ultimi giorni anche in sede di consiglio comunale qui nella vicina Simbario tra l'altro si è deciso di rendere il comitato largo, libero, aperto. Assolutamente sì ma questa è l'essenza cioè la battaglia verte sul desiderio della cittadinanza c'è un consenso popolare fate un giro magari con le telecamere a intervistare a caso i cittadini delle serre tutti quanti sono disponibili al passaggio di Catanzaro anzi auspicano con forza questo ritorno. E il secondo consiglio comunale aperto che facciamo quello a Simbario il primo è stato a Brognaturo dove abbiamo lanciato questa idea che ormai è concretizzata in questo comitato pro Catanzaro che d'ora in avanti avrà come obiettivo quello di raccogliere più firme possibile nei vari comuni che poi come dicevamo prima sottoporranno al consiglio comunale la decisione di ritornare nella vecchia provincia quindi è sicuramente un comitato che non ha nessun vessillo simbolo politico o partitico ma punta tutto su un desiderio popolare un consenso popolare che vuole questo ritorno nella provincia di Catanzaro e noi non faremo altro che assecondare questa volontà. Qualche polemiche per le assenze dei sindaci? Ma sì, ci sono state delle polemiche perché essendo dei consigli comunali aperti un sindaco credo abbia il dovere di sedersi al tavolo e sentire cosa si discute in questi consigli comunali visto che si parla di un territorio che da sempre vive insieme dovrebbe essere solidale con se stesso e con tutti quanti però sono polemiche che spero verranno superate con l'entrata nel tavolo almeno del dibattito degli sindaci stessi noi veramente invitiamo loro a confrontarsi con questa volontà sono sicuro che in futuro ci saranno le occasioni per confrontarci non è una fuga da vibbo speriamo che i dipendenti della provincia di Vibo e Valencia che da mesi versano in queste condizioni drammatiche ormai perché non percepiscono lo stipendio e hanno ovviamente delle famiglie da portare avanti possano risolvere questa criticità e diamo loro un in bocca al lupo però quello che noi facciamo è una battaglia di identità innanzitutto ma anche di miglioramento della quotidianità di migliaia di persone che si sentono appartenenti alla provincia di Catanzaro sul versante ionico in particolare e al tempo stesso vogliono soffrire di servizi che al momento sono totalmente negati e non da ora, da anni nel Vibonese che invece nel Catanzaro se sarebbero sicuramente usufruibili Il Comitato contenimento del cinghiale e difesa del territorio ha organizzato per venerdì 22 con partenza alle ore 9 dai campi sportivi di Chiaravalle Centrale e San Vito una manifestazione di protesta davanti alla cittadella regionale per ulteriori informazioni e prenotazioni telefonare ai seguenti numeri 349-600-4041 333-1690-124 333-4654624 ed ora ci fermiamo un attimo per una breve pausa Ben ritrovati, riprendiamo l'informazione e ritorniamo a parlare della festa del PD a Catanzaro a Catanzaro festa del PD nel quartiere Santa Maria su iniziativa dell'associazione Il Campo si è discusso dei temi del lavoro è anche una sfida che è una sfida politica, culturale, civile non rassegnarsi non dare per scontato che questa terra debba vivere in solitudine ma invece saper cogliere il raccordo con gli scenari nazionali e internazionali con le potenzialità che la Calabria ha al centro del Mediterraneo con i provvedimenti stanziati dal governo i primi di agosto per potenziare il sostegno ai giovani con questo impegno simbolico io resto al sud cioè un finanziamento per i giovani che vogliano restare nel sud e in Calabria quindi una situazione che va affrontata con grande determinazione perché la disoccupazione è grave in Calabria lo spreco di risorse specialmente per responsabilità della mafia e della delinquenza organizzata ci dice che ancora tanta parte del territorio calabrese è soggiogata dalla violenza e noi vogliamo dare il nostro contributo a una lotta di liberazione civile non a casa abbiamo scelto per questa festa un quartiere simbolo come quello di Santa Maria che è punto di snodo rispetto a zone via Le Sonso, l'area del Corvo, l'area dell'Aranceto che vedono un insieme di presenze di tantissime persone per bene ma ancora la tolleranza di persone che per bene non sono che esercitano per professione il malaffare, lo spaccio della droga l'occupazione abusiva di case popolari che spettano ad altri cittadini ecco noi non riteniamo che queste cose siano più tollerabili e quindi vogliamo incoraggiare tutte quelle forze sane che a Santa Maria di Catanzaro nella città di Catanzaro nella regione Calabria vogliono reagire per liberare il territorio dalla violenza e creare fiducia nei giovani che vogliono restare nel sud che vogliono restare in Calabria e rimaniamo sempre a Catanzaro e vediamo questo servizio il sindaco di Catanzaro Sergio Abramo ha effettuato un sopralluogo nell'area Magna Grecia a Lido dove è in atto la realizzazione del polo fieristico il primo cittadino ha preso atto con soddisfazione dell'andamento dei lavori ed ha annunciato che la gestione dell'intera area espositiva sarà affidata ai privati che dovranno provvedere a renderla sicura come vedete sono iniziati i lavori dopo averli appaltati qualche mese fa diciamo abbiamo 12 mesi per la consegna ma siamo felici perché non era facile recuperare questo finanziamento dopo 7 anni quindi rischiavamo di perdere questi soldi questo finanziamento invece lo abbiamo recuperato finalmente realizzeremo una grande opera che servirà soprattutto a questo quartiere servirà alla città di Catanzaro perché un centro espositivo di 5.000 m2 non l'abbiamo mai avuto ma soprattutto è un'area polifunzionale che permetterà di fare anche dei concerti all'interno ma anche utilizzando con il sistema di vetrate l'area esterna perché si aprono i vetri e quindi si possono utilizzare 5.000 m2 all'interno della struttura e tutto il piazzale con le gradinate quasi come era un tempo quindi è un'area che si presta diciamo a molte iniziative e poi una risposta chiara e netta a chi voglio dire fa sempre critiche che avevamo perso questo finanziamento che i lavori non partivano che c'erano dei problemi io credo che molti anche i consiglieri comunali si divertino a come dire o quasi siano felici quando un lavoro si ferma pur di attaccare politicamente invece abbiamo dimostrato che siamo stati devo dire ringraziare anche le strutture comunali i funzionari i dirigenti Gio Matramancuso che si è dato molto da fare per recuperare questo finanziamento ed ora ci spostiamo a Squillace con questo servizio rimpasto nell'aggiunta municipale il sindaco Pasquale Muccari ha nominato nuovo assessore Franco Caccia sociologo in servizio all'azienda sanitaria di Catanzaro e già consigliere comunale capogruppo di minoranza della lista Squillace Nuova nella precedente legislatura un rimpasto forzato dal momento che l'assessore uscente Gregorio Talotta si è giudicato l'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di istruttore direttivo tecnico bandito dallo stesso comune di Squillace dove ricopre la mansione di responsabile dell'ufficio tecnico Talotta ha rimesso la delega assessorile il 12 settembre scorso praticamente io devo ringraziare preliminarmente prima di tutto l'ex assessore Gregorio Talotta perché l'ex assessore Gregorio Talotta è entrato in giunta in un momento difficilissimo nel momento più delicato della mia amministrazione perché ha dovuto sobbarcarsi l'onere di istruire l'ingente mole della massa passiva dell'ente il comune di Squillace come sapete in data 19 settembre 2014 il consiglio comunale ha dichiarato lo stato di dissesto per l'impossibilità di pareggiare quel bilancio di portare a pareggio il bilancio del 2014 la scadenza era il 30 settembre 2014 i termini utili per l'approvazione del bilancio in quell'anno e se io non avessi dichiarato lo stato di dissesto non avrei potuto pareggiare il bilancio non avrei potuto fare il bilancio e il il consiglio comunale sarebbe stato sciolto è stata quella una decisione difficilissima perché è stato un evento traumatico che ha avuto anche nell'opinione pubblica una fazione di dissenso oggi devo dire che molti cittadini hanno preso consapevolezza di quella che era la realtà e diciamo quella decisione è stata metabolizzata dall'opinione pubblica opinione pubblica che non presenta toni di contestazione perché l'amministrazione comunale si è rimboccata le maniche e sta garantendo la gestione dell'ordinario la difficilissima gestione dell'ordinario difficilissima perché la situazione finanziaria resta una situazione finanziaria difficile perché noi stiamo facendo i conti anche con alcuni debiti che purtroppo non rientrano nella massa passiva della massa passiva dell'ente faccio un esempio proprio qualche giorno fa con determina numero 62 il settore finanziario ha liquidato 100 con l'avanzo di amministrazione perché noi stiamo cercando di spendere il minimo essenziale con determina numero 62 il dirigente del settore finanziario ha saldato un debito di 140 mila euro pensi un poco lei 140 mila euro soldi di cassa che vengono meno quante piccole situazioni avrei potuto risolvere 140 mila euro sono 140 mila euro che il problema la problematica del dissesto di squillace è particolare perché tra i debiti fuori bilancio non vi sono soltanto debiti di parte corrente ma ci sono anche debiti relativi a cosiddetti investimenti che non rientrano nella massa passiva e che l'amministrazione la mia amministrazione e le amministrazioni che verranno dovranno pagare con fondi di bilancio detto questo ritorno al punto di partenza quindi il mio ringraziamento particolare all'assessore Talotta che ha come dire si è sobbarcato l'onere di questo impegno che ha portato a conclusione anche con il riconoscimento con un incombio da parte del commissario liquidatore che è il dottore Mario Puzzini persona che io ringrazio perché è una persona molto equilibrata una persona che è stata sempre vicina all'amministrazione e che ha anche dato sempre buoni consigli e che ci ha consentito anche di risolvere problemi spinosi l'assessore Gregorio Talotta è vincitore di una selezione pubblica del cosiddetto incarico ex articolo 110 del Tuel per cui mentre prima era in una doppia posizione di responsabile dell'esecutivo è responsabile dell'ufficio tecnico oggi l'assessore Talotta è responsabile a tempo determinato e fino al compimento della consigliatura quindi fino per la durata del mio mandato è responsabile è istruttore direttivo direttivo dell'ente detto questo è chiaro che è venuto a me in un posto in giunta questo posto ho ritenuto di coprirlo con il dottore Franco Caccia il dottore Franco Caccia non è una persona a me sconosciuta perché è stato il mio capogruppo durante l'amministrazione Rodio durante la consiglia di Torre Rodio ha gestito con impegno e con grande professionalità l'incarico di capogruppo le doti le capacità derivano da una serie di presenze nel territorio del dottore Caccia perché è stato presente nel sociale nell'associazionismo soprattutto e quindi ho dato all'assessore Caccia la delega alla partecipazione e la delega alla programmazione certo non sarà facile il compito del dottore Caccia perché non sarà facile il dottore Caccia perché purtroppo tra i debiti che l'amministrazione ha vi sono anche debiti verso la regione Calabria e questo ha determinato anche il blocco amministrativo il fermo amministrativo per cui noi non avremo trasferimenti da parte della regione Calabria nei prossimi anni e quindi noi possiamo solo attingere ai fondi PON quindi alla programmazione nazionale quindi solo a questo tipo di fondi però io sono convinto che le risorse del dottore Caccia sono tali che sicuramente mi daranno una mano in questo scorcio di consigliature scorcio per modo di dire perché ancora diciamo abbiamo quasi due anni di attività ed ora diamo la linea a Franco Laganà dalla biblioteca Gesualdiana di Badolato con l'intervista allo storico Antonio Gesualdo siamo ospiti nella biblioteca Gesualdiana ricca di storie e di culture del professor Antonio Gesualdo affermato scrittore letterato conosciuto a livello internazionale per le sue migliaia di pubblicazioni professore da pochi giorni è uscita la sua ultima pubblicazione autobiografica ce ne vuole sintetizzare? Certo anzitutto ringrazio voi di Teleionio che mi avete molte volte valorizzato siete un emittente importante nell'ambito della comunicazione in Calabria il volume che voi state riprendendo in questo momento si compone di 1128 pagine sono pagine fitte dense ricche di contenuti bellissime nella forma nella prosa con un italiano che io ho restaurato e ripristinato il vero italiano che non è più parlato che non esiste praticamente più in nessuna parte nemmeno nei libri degli scrittori contemporanei più importanti questa pubblicazione ha 520 fotografie quasi tutte a colore numerose incisioni in acciaio che ho pagato molto care presso un antiquario di Bologna e ha completa la bibliografia su di me perché posseggo una bibliografia unica di 18 pagine di meno scritte con migliaia e migliaia di articoli scritti su giornali su riviste alcuni dei quali sono del qui illustre professore Franco Laganamico da lunghissimi anni nel suo libro lei affronta anche i problemi dell'Europa ed è molto critico ah certo questo libro è praticamente il restauro dei grandi valori della grande storia della grande moralità della grande vita politica e sociale dell'Europa fino a 30 anni fa perché secondo me la crisi attuale dell'Europa che è scesa molto in basso che ha perduto la sua identità risale al 1950 io direttamente vedevo nei miei viaggi i sintomi e poi i fattori dominanti e a chiunque visibile della decadenza assoluta dell'Europa specialmente sul piano politico quindi questo è un libro di grandissima importanza si può considerare come il volume più bello più importante più ricco che si è apparso nella storiografia italiana ed europea negli ultimi 60 anni il lettore potrà constatare questo mio giudizio se lei dovesse dedicare la sua opera a chi la dedicerebbe? questa opera l'ho prodotta io in sette anni di grandi sacrifici di immense ricerche in archivi nella mia biblioteca che è la biblioteca privata più importante probabilmente della Calabria per la qualità e la quantità di libri ogni volume è praticamente in lingua francese o spagnola o inglese è un volume raro non reperibile l'Italia è stata già dedicata in alcune pagine iniziali della mia magistrale di questo mio capolavoro ai miei maestri io non ho un solo maestro io ho centinaia migliaia di maestri che sono qui contemplati che figurano in questo mio capolavoro e ai quali va esso dedicato con amore e compassione chi sono questi maestri? sono i filosofi i letterati i poeti sono i grandi uomini politici sono i grandi storiografi dell'Europa alla cui opere ho attinto per poter comporre questa opera e le cui opere sono state alla base della mia vastissima formazione culturale e anche umana perché ho viaggiato 20 anni in Europa e i riflessi e i risconti dei miei viaggi si trovano in questo mio capolavoro sono anche uno dei più grandi studiosi dell'arte europea specialmente dell'arte romanica e gotica e barocca che ho visitato andando a piedi per 20 anni di città in città di borgo in borgo di abbazia in abbazia di museo in museo nell'Europa occidentale cosa vuol dire ai badolatesi lei ha vissuto per molti anni a badolato superiore ha trascorsi i suoi migliori anni adesso si è trasferita in marina e sono come lei sa come teleionio ha già documentato parecchie volte l'unica personalità che ha sacrificato molto denaro e molta passione e molti anni della mia vita a ricostruire l'identità storica e sociale di un borgo che era privo di identità e al quale nessun borghese nessun ricco nessun popolano ha mai dedicato un poco della sua passione però gli badolatesi sono stati nei miei confronti infedeli irriconoscenti e quindi nessuno dei badolatesi è presente in questo mio capolavoro ove invece sono presenti i grandi maestri dello spirito della letteratura della politica che hanno fatto grande me il mio libro e l'Europa occidentale e a badolato è tutto pronto per la festa dei santi angeli custodi vediamo il servizio il comitato festa e la parrocchia santi angeli custodi di badolato marina presenta il programma religioso e civile che si svolgerà nelle giornate del 21 22 23 e 24 settembre e prevede per il 21 la santa messa e l'esposizione del santissimo sacramento e recita della preghiera dei vespri con riflessione venerdì 22 alle ore 21 e 30 in chiesa la seconda rassegna di cori polifonici mentre per domenica la santa messa cantata con paneggirico alle ore 17 e a seguire la processione per il programma civile sabato dalle 21 e 30 in collaborazione con i nuovi tarì Francesco Giannini live domenica 24 alle ore 21 e 30 manifestazione canora bimbi in festa durante la serata l'estrazione della lotteria e in chiusura lo spettacolo di fuochi pirotecnici durante la serata del 23 e 24 funzioneranno gli stand gastronomici a cura della parrocchia bene e con questa ultima notizia vi salutiamo grazie e vi diamo appuntamento alle prossime edizioni grazie